Ciao, sono Matteo Pitaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius e con questo video voglio invitarti a partecipare alla mia lezione gratuita di orientamento sul marketing digitale. Ho organizzato questa lezione gratuita dove andremo a parlare di tutte le migliori opportunità online che ci sono adesso e nel 2021, andando un po' ad analizzare pregi e difetti di ognuna di queste e soprattutto cercando di capire qual è l'opportunità adatta a te, in base alle tue caratteristiche e ai tuoi obiettivi. Mi ricordo io quando sono partito circa 8 anni fa, la cosa più difficile all'inizio è stato capire qual era la strada da prendere. Ci sono veramente tante opportunità oggi, forse troppe opportunità che ci offre l'online e quindi quando ci sono troppe opzioni diventa poi difficile orientarsi. Allora ho pensato di fare una cosa, ho organizzato questa lezione in diretta della durata di circa 50 minuti dove andremo ad analizzare le 6 migliori opportunità che ci offre il web nel 2021 e andremo però ad analizzarle sotto vari aspetti, non solo su quanto ti può far guadagnare un'opportunità, su quali sono i rischi, ma anche e soprattutto su quali sono le caratteristiche richieste. Cioè se sei un certo tipo di persona che attività dovresti fare? Quindi andremo ad analizzare questi business anche in base proprio all'aspetto caratteriale di chi li affronta. E questo ti sarà molto utile a capire in base al tuo carattere, alla tua situazione di partenza e anche ai tuoi obiettivi, cercare di capire qual è la strada giusta da intraprendere. Sarà una lezione veramente interessante e ricchissima di informazioni utili. Ho lasciato il link qui in descrizione, ti basta cliccare sul link, selezionare l'orario che preferisci e ci vediamo in diretta. Un abbraccio e a tra poco! Un abbraccio e a tra poco!